Valentino Pirone del Pianura, esordio nel tuo quartiere con questa maglia in campionato, con gol e soprattutto con i tre punti che sono la cosa più importante in questo momento di inizio stagione. Ma sì, diciamo che ci stiamo ancora costruendo insieme con tutta la squadra, con il mister che sono dieci giorni che lavora con noi, cerchiamo sempre di dare il massimo e oggi ci siamo riusciti, vincendo questa partita per noi importante, la prima casalinga di un campionato lungo e ora testa alla prossima che giocheremo fuori casa, abbiamo due trasferti. Avevi, come spesso in molte piazze vi hai giocato, anche oggi hai avuto diverse occasioni per andare in doppia cifra, dovremmo un po' migliorare un po' la conclusione o è soltanto una questione di bravura a volte dell'avversario? Ma diciamo che l'importante è vincere, poi se arriva un gol mio è ancora più bello, però l'importante è concludere nel migliore dei modi la vittura di squadra e poi arriva quella persona.